Oggi viene presentato il progetto volontari per l'educazione, un progetto nazionale nasce per concretizzare e aiutare i ragazzi per la dispersione scolastica e soprattutto per abbattere la dispersione dei ragazzi per l'inclusione e ovviamente arriva a tutti quanti, a tutte le famiglie in quanto verrà dotato di un tablet con una scheda ovviamente con dei giga per poter soffrirne nei contesti quindi casalinghi I target sono i ragazzi che vanno dai 9 ai 15 anni che sono soggetti ovviamente alla povertà educativa soprattutto nasce visto questi due anni di problematiche con il Covid e cerchiamo di supportarli e avvicinarli soprattutto a quelli che dovranno affrontare dei percorsi di esame tipo alla terza media o ai quinto superiore Una particolare attenzione ai figli di donne vittime di violenza, vero? Soprattutto perché i bambini vittime di violenza che sono ospiti nelle case rifugio ovviamente non possono frequentare persone dell'esterno e quindi di conseguenza questo progetto viene curato e viene sfruttato in Calabria proprio per questo motivo, per questo fine è molto importante raggiungere proprio gli ultimi e di conseguenza per quei bambini questa sarà una vera compagnia e quindi un riserimento alla società